E allora come detto noi ritorniamo in diretta e lo vedete direttamente sulle pagine dei nostri social, abbiamo Francesco Di Pierantozzi, la voce ufficiale di Sky Sport, qui con me per commentare questa prima giornata del Sei Nazioni. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie mille che sei con me, ormai c'è diventato uno di casa per gli amici di Delta Radio. Come è andata questa prima giornata? Io vorrei subito entrare nell'andare a parlare dell'Italia, l'Italia tu eri all'Olimpico, te la sei vissuta, ci è mancato tanto così perché l'Italia facesse come minimo un pareggio, però non ero in Inghilterra fortissima, però ci abbiamo creduto, io ero in tribuna e tutti quanti ci credevamo alla fine. Il primo tempo ti ha un po' messo nella condizione di crederci, perché? Perché hai segnato due mete costruite, volute, cercate, non quelle di rapina, quelle che trovi sulla tua strada. Non è stato il solito gioco un po' così difensivo, cercando, anzi, quello che ci aveva detto Chesada sarà un gioco più conservativo, più al piede, eccetera, eccetera, è stato in qualche modo un depistaggio, perché poi di fatto abbiamo rivisto quella bella Italia in attacco, con Brex, Menoncello, Lorenzo Cannone, Tommaso Allan, che tanto bene hanno fatto. Poi all'inizio del secondo tempo l'Inghilterra, secondo me, insomma, anche quello che abbiamo visto, è ritornata a fare l'Inghilterra, ha cercato di giocare meno, più pressione, più gioco al piede, ottima tush, fasi di conquista perfette, gioco un po' più spezzettato, un po' rallentato, e lì l'Italia si è insabbiata, ha faticato, poco possesso, tush maluccio, battaglia aeree così così. Esatto, e questo l'abbiamo pagato caro, però l'altra buona notizia è che l'Italia ha lottato fino in fondo, quando ormai tu pensavi, vabbè, ragazzi, abbiamo perso, è arrivata quella meta all'ottantaquattresimo, che ti dà il punto di bonus, ma soprattutto ti dà una speranza nuova, dici, beh, un'Italia viva fino in fondo, un'Italia che lotta, un'Italia che in ogni caso arriva a tre punti dall'Inghilterra, senza stare a pensare al calcio di Allan, questa è la valutazione che fanno i non-rugbisti, no? No, che vanno a vedere il sabellino e dicono, certo se l'avesse fatto, noi sappiamo che può essere e può non essere, però non puoi ex post andare a pensare a quello, devi piuttosto concentrarti su quegli errori, devi rimettere a posto la rimessa laterale, e non è facile, perché tu hai un vero solo saltatore che è Ruzza, e quindi è anche più facile marcare le situazioni, no? Gli altri hanno più soluzioni, più blocchi, dove va Ruzza, tu copri già quello, l'altra soluzione non è così vincente, adesso non sono un tecnico della rimessa laterale, però sappiamo che siamo un po' in difficoltà. E poi un po' di dettagli, diciamo che sulla meta del mediano di Mischi, Alex Mitchell, al di là del doppio movimento, viene data buona, appunto e basta, non si discute, c'è stato un placaggio sbagliato, c'è stata una situazione, due o tre cosette che ci avrebbero aiutato. Sono piccoli dettagli che possono aiutare, che le grandi squadre vanno a curare, siamo sicuri che durante questa settimana di attesa per andare a Dublino l'Italia andrà a sistemare. Archiviata la partita contro l'Inghilterra, l'Italia adesso va in trasferta, gioco domenica pomeriggio a Dublino contro l'Irlanda, Irlanda devastante contro la Francia, quindi un'Irlanda che non sarà un'Inghilterra. Diciamo che l'Inghilterra è arrivata anche un pochettino rimescolata, non era forse la migliore Inghilterra che abbiamo visto magari ai mondiali, però adesso arriva quest'Irlanda che è una schiacciassassi. Sì, ma non ti credere come direbbero a Livorno, nel senso che l'Inghilterra comunque ha trovato Ethan Roots, questo anglo neozelandese che ha preso il posto di Cartney Lowes e ha giocato una partita straordinaria. George Ford dice che l'usato sicuro è anche qualcosa di più perfetto nei panni del numero 10. Diciamo due centri diversi perché erano meno forti fisicamente, meno Tuilaghi e più Slade per capirci al di là dei ruoli 12-13 e quindi un pochino più tecnici. L'Irlanda è un tritatuto, l'Irlanda non guarda in faccia nessuno, l'Irlanda poi scioccata dall'aver perso con gli All Blacks, intanto così è rimasta malissimo ma ha ripreso esattamente da dove ha finito. E che non ci sia Sexton come abbiamo visto sostanzialmente non cambia nulla, ecco anzi Crowley ha giocato una ottima partita. Credevo che tu mi chiedessi dell'Italia, come è andata della televisione che poi è l'unico campo del quale posso parlare, non della tecnica. Quella era la domanda successiva perché comunque ci sarà arrivato Sky Sport, la casa del rugby ormai per guardare tutte le partite e commentarle ma sarà arrivato per quanto è stato l'audience ma soprattutto la squadra che avete messo in campo perché non è da poco, avete coperto tutti i campi, siete lì con il doppio commento, con i registi, insomma state dando il meglio per dare risalto a questo sport. Non siamo degli illuminati al di là della lampada che ho in testa ma cerchiamo di, insomma nel nostro piccolo perché poi tu sai che all'interno di una redazione sportiva i pesi contano, calcio, Champions League, hai per esempio i motori, adesso il tennis, c'è tutta roba per esempio di sostanza che ti sta davanti, che ha dei budget superiori, quindi devi cercare in qualche modo di fare il meglio con quello che hai. La nostra novità è stata quella di mettere assieme Diego Dominguez e Andrea De Rossi e trasformare Andrea De Rossi un pochino in una sorta di conduttore al fianco di Diego. È una scelta che in qualche modo mi sembra riuscita, una scelta riuscita perché i due vanno d'accordo. Con Diego Dominguez non è facile andare d'accordo, rispetta Andrea, Andrea è stato comunque un capitano dell'Italia, Andrea è uno che ha la battuta facile, può permettersi anche di fare la battuta a Diego, è uno dei pochissimi, quindi questa cosa funziona. Poi abbiamo in qualche modo trovato Marco Riccioni che ci ha dato una mano e sarà con noi anche nelle partite in trasferta dove riuscirà a collegarsi per avere più contemporaneità rispetto al grande passato di Diego e di Andrea. C'è stato Alessandro Moscardi che secondo me dice sempre delle cose intelligenti, ma purtroppo col lavoro che fa, è un mega boss di McDonald's, non può essere sempre presente. È difficilissimo, non voglio anche semplicemente un messaggio. Lo sai, lo sai, poi è di Rovigo, quindi voi lo conoscete bene, grande testa, grande cervello, ma è molto impegnato e quindi lì è difficile in qualche modo riuscire. Cioè Federico Fusetti che è nato a Rovigo, sebbene sia un petrarchino, invece ha questa capacità di raccontare in modo flemmatico, sempre ti mette nella condizione di non essere mai alto e basso, alto e basso, tranquillo, anche per chi fa la telecronaca è una sicurezza. È una squadra meravigliosa ogliata. Allora Francesco rimane con noi, noi ci ascoltiamo. Comunque i numeri, solo una cosa sui numeri, abbiamo fatto più del 4% tra Sky e TV8 di share. I numeri assoluti sono un po' più bassi, però due valutazioni velocissime. La prima, c'è meno gente in assoluto che guarda la televisione, questo lo sappiamo tutti, ed è un difetto, sarà anche per Sanremo, abbasserà secondo me un pochino i numeri alla fine della settimana. E poi l'Italia arrivava, non dalla vittoria sull'Australia, ma da due sconfitte pesantissime, 22 metri e 156 punti. Ho finito. Non ti preoccupare, ma tanto rimani con me, noi ci ascoltiamo un disco di Delta Radio, poi riprendiamo la nostra chiacchierata con Pierantozzi. Grazie.